Sono in compagnia di uno dei fondatori della Galleria d'Arte Wunderkammern, l'Avvocato Giuseppe Pizzuto. Ciao Giuseppe, benvenuto su HTO. Ciao, grazie. Giuseppe, cosa lega un Avvocato all'Arte? Direi che non ci sono dei legami così diretti tra il mio lavoro di tutti i giorni e l'arte, così come è generalmente intesa. Ti posso dire quello che lega me all'arte. Sicuramente c'è una grandissima curiosità e sicuramente c'è la voglia di scoprire qualcosa che secondo me è un po' dentro tutti noi. Un bisogno che abbiamo tutti in nato, quello dell'arte, quello di confrontarci con l'arte, con i diversi tipologie di espressioni artistiche e con un mondo che è sicuramente affascinante, un po' inarrivabile e molto molto coinvolgente. Wunderkammern si ispira a tre valori fondamentali, qualità, ricerca e mercato. Ce ne puoi parlare un po'? Sì, noi cerchiamo un po' in tutti i progetti che facciamo di avere sempre ben presenti in mente queste tre grandi linee guida, noi ci piace chiamarle così, la qualità e la qualità degli artisti che proponiamo, quindi cerchiamo sempre di proporre artisti che abbiano un loro percorso formativo e quindi diciamo espressivo che ovviamente a nostro giudizio ma pensiamo anche universalmente, più o meno universalmente riconosciuto come di grande livello qualitativo e quindi in tutti i progetti che proponiamo per noi la qualità è sempre un valore fondamentale. Il fondamento, il valore, la linea guida della ricerca è invece molto legata al discorso della qualità perché ci piace comunque vedere negli artisti che proponiamo un discorso di ricerca creativa e diciamo così autoriale che sia sempre fortemente riconoscibile, cioè ci piace che la ricerca dei nostri artisti in qualche modo possa essere percepita, non dico immediatamente, però possa avere sempre un certo livello adeguato di evidenza agli occhi del nostro pubblico e dei nostri collezionisti. L'ultimo ovviamente direi last but not least è il mercato, ovviamente come galleria d'arte non possiamo prescindere dal mercato, ci dobbiamo confrontare tutti i giorni col mercato e il mercato è quello che ci permette di essere qua e di portare avanti tutti i giorni i nostri progetti e i nostri diciamo discorsi per così dire. Ovviamente non è appunto l'unico perché va sempre parametrato insieme agli altri due però è un discorso al quale stiamo sempre molto attenti per cercare anche di proporre ai nostri collezionisti qualcosa che abbia un mercato, qualcosa che sia riconosciuto e che possa essere percepito anche in termini di investimento, direi senza vergognarcene perché penso che sia uno degli elementi fondamentali dell'arte contemporanea. Per i nostri telespettatori che hanno voglia di venire a visitare la mostra, come fanno a contattarvi? Allora abbiamo un sito internet che è www.wunderkammer.net e poi ovviamente ci sono anche le mail, i telefoni per contatti, qualunque informazione che voglia essere richiesta abbiamo tutto sul sito e qua siamo in via Gabriel Serbelloni 124 a Roma e quindi siamo aperti dal mercoledì alla domenica dalle 5 alle 8 e questa esposizione rimarrà fino a fine marzo, quindi venite a trovarci. Grazie a tutti